Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Levante ha mostrato il suo nuovo colore di capelli. C'è un segreto dietro questo nuovo colore Tu sapevi quale fosse? Levante è una cantante di gran successo che dà la sua vantaggia alcune partecipazioni a Sanremo in cui ha dato sfogo alle proprie emozioni dietro testi che sono sempre importanti Levante porta la propria arte in musica e cerca sempre di stupire. Di lei si è sempre saputo poco per quanto riguarda la sua vita privata È sempre stata una donna molto riservata sulla sua vita privata e per niente pronta a mettere in vetrina se stessa e la propria vita privata Ogni star sceglie naturalmente di gestire il proprio rapporto con la fama nel modo in cui preferisce e trova più consono per se stessi Levante infatti ha scelto sempre di parlare di alcuni eventi ed avvenimenti solo in relazione alla propria arte dal periodo che sta vivendo Sempre impeccabile e bella nel suo stile personale, di recente a Sanremo l'abbiamo vista con un colore di capelli totalmente diverso dal solito Il tutto stupito non poco il pubblico ma chiaramente ha lasciato un segno C'è però un segreto dietro questo cambio di colore. Sai qual è? Levante ed il nuovo colore di capelli. Il segreto che non ti aspetti Levante non è di certo la prima cantante a cambiare colore di capelli In tantissimi come ad esempio la stessa Tatangelo, su cui si può sapere di più cliccando qui, ad un certo punto hanno dato un tocco di colore diverso al proprio look La cantante di Tiki Bombo Medi Viva ha sempre una spiegazione per tutto Il suo cambio di colore, così come la sua canzone presentata a Sanremo 2023, rappresentano un periodo di cambiamenti che lei sta vivendo Il cambio di colore, da come racconta la cantante, è avvenuto in un modo inaspettato che però l'ha portata semplicemente a dire di sì ad uno schiarimento Ha voluto i capelli di quel colore perché rappresentavano il cambiamento che lei stava vivendo Un cambiamento dovuto alla nascita della sua piccola alma futura Così come lei racconta nella sua canzone Vivo, presentata a Sanremo 2023, la donna ha vissuto un anno ricco di emozioni diverse La paura, l'emozione, l'amore e così via. Tutte emozioni che si provano quando nasce una vita dal proprio corpo e non si sa bene in che modo porsi e cosa fare Il colore di capelli fa parte di ciò.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti